L'immagine più nota dei suoi tre mondiali è il gol del momentaneo 1-0 della Germania sull'Inghilterra nella finale di Wembley. E' questo il secondo torneo giocato da Helmut Haller. Il primo, in Cile, non va al di là dei quarti di finale. Lì si ferma il cammino tedesco. In Inghilterra, il centrocampista che ha militato in Italia con successo, vincendo scudetti con il Bologna e la Juventus, è il cannoniere della Panzer Division con sei gol, suddivisi tra Svizzera ed Uruguay, una doppietta a testa, Unione Sovietica e Inghilterra. Ininfluente, invece, la sua partecipazione a Messico 70, limitata a 45 minuti disputati contro il Marocco.